Elisa, ti volevo un attimino fare un commento su questo frullano che avrete bevuto e come avrai sentito c'è una patronità importante, ha dei profumi importanti cosa che un Tokai normale non lo fa l'oronologo che è un mio carissimo amico che si chiama Lonardi e che sta rifacendo tutte le cantine del gruppo Angelini in tutta Italia mi diceva che per fare un ottimo Tokai lui utilizza il 40% delle vinacce dell'anno prima di modo che essendo macerato in questo modo possono uscire questi profumi importanti così grazie bene, grazie per la spiegazione ma soprattutto grazie per quest'ottimo risotto che stiamo mangiando abbiamo visto uno speciale dedicato ai costumi del corteo storico io mi riallaccerei a quello che diceva Alessandro Grazi e cioè che è importante la qualità ecco e quando si devono realizzare dei costumi per il corteo storico come ha fatto Sebastiano Morichelli se non si vuole cadere nel ridicolo bisogna andare alla ricerca della qualità voi che ve ne siete occupati per diversi anni lei e i suoi collaboratori insomma non è che prendevate il primo sartino e gli facevate cucire perché al fare un lavoro come l'abbiamo fatto nell'81 un rinnovamento generale del corteo non che sia stato sbagliato il corteo precedente quello del 55 ma noi con gli anni dal 71 io i primi figurini del corteo ce li ho datati e noi avevamo a disposizione noi figurinisti avevamo a disposizione un'infinità di fotografie la possibilità di viaggio di andare personalmente come io ho fatto addirittura al museo Stibbert o a Mantua al museo Diocesano a vedere come erano fatte le armature del 400 perché sì va bene l'illustrazione del libro da iscrizione ma l'altro fatto è prendere in mano un'armatura del 400 e fa venire i brividi se è autentica pensare a un'armatura insomma alla vita vissuta da chi l'ha usata ma è una questione di conoscenze soprattutto quello che manca a Siena nei costumi del palio è la professionalità nel senso che basta che questo anche nelle contrade non solo nel comune ma basta che qualcuno sappia tenere mano al pennello ecco che si sente in grado di disegnare un figurino ora un costume deve avere una funzione perché non può essere un costume di un portabandiera uguale a quello dell'alfiere che sono figure inventate per quanto riguarda il torneo perché basta pensare che la figura in maggiore per esempio è un principe che porta la bandiera che era la funzione dell'ufficiale più giovane dell'esercito che porta bandiera come lo è oggi l'ufficiale più giovane di una campagna militare è quello che porta l'insegna è un onore e quindi in sé il corteo storico è una serie di superfettazioni che basta pensare alla forma stessa della bandiera dell'azienda di quadrata quando le bandiere del 400 erano tutto stemma nel senso che non era la bandiera rossa bianco rossa e verde o lo stemma sabaudo nel mezzo che fa un esempio era solo bianco rossa e verde se fa la bandiera sabauda in questo caso per avere un'idea la bandiera deve essere occupata da tutto lo stemma quindi le bandiere che noi vediamo nel corteo sono bandiere di sapore ottocentesco salvo un'eccezione nell'affresco di 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 che c'è una bandiera che fa eccezione bandiera dell'oca perché nel campo c'è il modo di di qui qui rivalità contro d'aiola più che aspetti aspetti storici comunque siamo contrariori e quindi ci vennerà a parlare. Ecco, ritornando poi, io poi mi piacerebbe, oltre il corteo, mi piacerebbe allacciarmi anche a quello che diceva Patrizia sulla contrada, di come oggi. Io ho più di 80 anni, ho vissuto la contrada come tutti quelli della mia età, ho visto cambiare il palio, da quando il palio di ganascia per me era l'idolo in piazza. Mi nonno, per esempio, mi diceva la mattina, preparava a andare a avere la prova che stamattina si corre Garivaldi e io ci riedevo che corresse Garivaldi, sceso dall'alizzo con le ruote o qualcosa del genere. Era questa. E quindi ho conosciuto un palio quando alla Costarella c'erano i fantini a aspettare all'ingaggio e correvano una prova e quell'altro allungava le 10.000 lire e era bella e fatta, si erano liberi. Poi è diventato l'ingaggio come qualsiasi altro ingaggio viene assoltato il fantino di contrada. Ora sembra che sia cambiato un po'. Però questo cambia un po' tutto il palio. un esempio, per esempio, il fantino di contrada l'abbiamo con Loha. Loha, insomma, ha vinto anche il Nepali, ma per me, ma benissimo. Però la politica rimandava il proprio fantino in un'altra volta per far perdere l'avversaria. E questo è... Sì, si è... Negli anni Sessanta, diciamo, sono entrati... Molto è dovuto al fatto, secondo me, che nel dopoguerra, negli anni Cinquanta, c'è stata una forte inurbazione da Siena, da Campania, e ha cambiato lo spirito contradaio. Non era più la contrada, il fare per la contrada, fra virgolette, ma era una specie più simile al tifo calcistico che il contradaio. Però una domanda gliela devo fare. Suo nonno gli diceva il palio che ho conosciuto io da ragazzo voi non lo conoscete o no? Beh, è cambiato poco quanto... anche leggendo un po' Lerona del palio da allora è cambiato poco, è cambiato meglio perché erano i primi del Novecento e alla fine del Novecento il palio era sollerato, non era... dava fastidio a Samburi, dava fastidio alla gente e quindi ha rischiato di essere soppresso come altre feste. E quindi è cambiato quando ho cominciato un po' di propaganda a Sussena, propaganda turistica, la terra di Siena la cosa la rivista dell'azienda autonoma Siena prima era visitata da un'elite di viaggiatori non veniva solo i famosi storici dell'arte insomma il Douglas e anche il Perkins eccetera e poi quando è diventato un turismo animassa a Siena giustamente c'è anche troppo oggi francamente perché oggi no però in quest'anno no sì dai sto scherzando ecco capito dobbiamo prendere atto no una battuta soltanto scusami Claudio ma poi mi hai ridato un microfono dopo tanto tempo per cui per me capisci no siccome stavamo dicendo di quanto è cambiato però è cambiato sempre perché sentivo l'altro giorno un racconto che sui quotidiani dell'epoca all'inizio del novecento il palio si scriveva sui quotidiani si scriveva ha vinto la contrada X con il cavallo X e basta non come adesso che ci sono tanti approfondimenti dedicati a questa festa no sì ma diciamo questo che la capacità della contrada e del palio quelli che rimpiangono tempi te volevi dire questo era tutto bello al tempo che io avevo dieci anni no perché io ho vinto una volta dieci anni e poi ho dovuto avere cinquant'anni per cui capite bene che non è stato bello quell'età però al di là di questo ora della battuta facile me le sono fatte da me prima che me la facesse seme quello che volevo dire è che il palio ha sempre e la contrada hanno sempre saputo adeguarsi alla società contemporanea questo è la cifra ecco quando l'adeguamento io penso che oggi il nostro adeguamento sia andato oltre cioè dobbiamo adeguarsi non perdendo certe radici ecco questo è il messaggio che io volevo dare non che non ci si possa adeguare chiaramente non proibirò al giornalista di fare la cronaca o di mandare per internet l'arrivo che vedranno milioni di persone in tutto il mondo non è questo dobbiamo noi sapere non perdere quelli che sono i valori che ci porta la contrada lì è il rischio condivido pienamente questo dicevo soltanto che c'era forse un'attenzione a parte i mezzi di comunicazione erano tutti altri un'attenzione diversa appunto e tante volte il palio era utilizzato anche a scopi turistici oggi invece diciamo no il palio non deve essere fatto per i turisti ma deve essere fatto per i senesi poi benvengano anche i turisti Claudia ti ha la parola Fabio come tutti gli altri del resto è per noi una realtà costante nel senso che con Fabio facciamo anche tutti quelli che noi chiamiamo istituzionali che sono informazioni ai clienti in modo da poterli avvicinare anche a quello che è il mondo l'attività dell'ottico no non solo la bella montatura piuttosto ma proprio la qualità anche delle varie lenti che nel tempo migliorano la tecnologia ovviamente va avanti anche in questo settore credo che tu Fabio ti sia trovato come gli altri per carità ma proprio in un momento in cui tu avevi aperto un secondo negozio su Siena in Viale Sardegna con lo sforzo che ogni imprenditore immagino compie quando da un punto vendita da una realtà decide di sdoppiarsi in due e la sua fortuna è stata di cadere proprio nel momento non so se si possa chiamare fortuna però dico questo è stato ma lui è audace tanto è vero tanto è vero che non si è perso d'animo e l'abbiamo continuato a seguire dopo l'inaugurazione per tutte le cose che lui fa proprio per tenere vivo l'interesse intorno a lui alla sua azienda ma per fare anche una informazione ecco Fabio come è andato questo periodo in sintesi? è chiaro che è stato per tutti abbastanza complesso il periodo di marzo e aprile in particolar modo è stato veramente duro perché siamo stati chiusi e chiaramente abbiamo avuto le difficoltà che tutte le altre aziende hanno avuto oggi fortunatamente piano piano abbiamo superato perché oggettivamente non si può dire che non si è superato la crisi a Siena non ci sono più casi da tanti giorni fortunatamente dobbiamo nella nostra ultima informazione pubblicitaria abbiamo abbiamo proposto ci dobbiamo riprendere la nostra vita e la nostra vista per quello che ci riguarda perché chiaramente oggi come oggi dobbiamo recuperare quelle abitudini che abbiamo perso se ne parlava prima con altri colleghi è cambiato il mondo è cambiato perché chiaramente oggi le attività non saranno più le stesse i modi di lavorare non saranno più gli stessi la qualità che ho sentito dire chiaramente diventerà il fattore determinante quindi noi sotto questo aspetto abbiamo sempre puntato il dito su quello che è il vantaggio della qualità perché il livello il nostro livello è sempre stato quello di cercare di dare il massimo della qualità al minor prezzo questo è un po' come nel marketing vengono definiti i giapponesi visto che abbiamo un altro collega di giapponesi se ne intende perché si cerca sempre di dare il massimo della qualità col miglior servizio al costo chiaramente più adeguato è chiaro che non può essere il costo minimo ma può essere il costo giusto insomma quello che ti dà il rapporto qualità prezzo quindi oggi la differenza rispetto all'ultimo mese si è vista il lavoro sta riprendendo con continuità il servizio che noi diamo ormai è ripreso al 100% chiaramente la prospettiva secondo me è rosa noi in un altro spot pubblicitario dicevamo ce la faremo e come e come se ce la faremo proprio perché come si diceva prima Siena è una città che ha mille e mille altre possibilità possiamo assolutamente aspettarci che il turismo riprenda a breve io sentivo proprio oggi nel Chianti che sono ritornati tutti i turisti che hanno le case quindi dall'esterno i ristoranti nel Chianti ricominciano a lavorare insomma la prospettiva c'è dobbiamo solamente rimboccarci le maniche e riuscire a riportare la nostra città a quel livello che è sempre stato sarà un po' più difficile ma ce la faremo volevo un consiglio nel lockdown i famosi 40 giorni che sono diventati 90 se uno si siede tre volte su degli occhiali che ha in casa come si fa? no per dire io è successo questo e ti puoi immaginare io soffro di maculopatia genetica va bene ho l'occhio destro che vede meno del sinistro eccetera eccetera però almeno gli occhiali da vista non mi è mai successo ma mi sono seduto tre volte su tre occhiali diversi per cui è stata dura molto dura da questo punto la legge di marchi ti passiamo ti passiamo il numero di cellulare di Fabio Azzara adesso ci è stato portato uno splendido secondo primo piatto prima portata quindi ripasserei la parola a Michele poi non so se Elisa stesso vino di prima però forse mi piacerebbe che tu presentassi la persona che c'hai accanto se puoi grazie scusate questa è una tagliatellina fatta in casa con vongole veraci pesto di pistacchi e pomodorini senza aglio buon appetito ora do la parola a Elisa di modo che presenta allora accanto a me c'è Katia Bartolini lei si occupa da diversi anni di incoming ristorazione ed eventi le passo la parola buongiorno a tutti intanto grazie a Michele di avermi ospitato e a voi e volevo solamente fare un intervento brevissimo su un paio di tematiche la prima è ovviamente l'attività mi associo fortissimamente ad Alessandra perché credo che il turismo e di conseguenza tutti gli annessi sia un po' il settore che abbia su Siena risentito più di tutto questo lockdown ho per fortuna speranza soprattutto perché da vent'anni opero con tantissimi operatori stranieri e tutti dimostrano una volontà di ritorno nell'Italia nella Toscana e nel Senese e poi volevo semplicemente fare un'osservazione sulla contrada perché io sono del loca e questo potrebbe essere un po' un deterrente però appartengo a una ho 46 anni appartengo a una generazione nella quale i nostri anziani di contrada ci dicevano che noi non abbiamo una nemica ma abbiamo un'avversaria e quindi mi associo totalmente a un rispetto ho un figlio di 19 anni che è nel consiglio della società Trieste e credo dico questo dice non è che ce ne frega più di tanto ok ma vivo nel loca sono nata e cresciuta in Fontebranda e ho vissuto veramente tutti gli step del cambiamento ma credo che purtroppo quegli step lì siano proprio il rispecchio di un cambiamento societario cioè noi lo vediamo rapportato alla contrada però è proprio la società perché ai tempi nostri anche cariche e responsabilità a ragazzetti così così giovani non c'erano io spero che comunque loro possano ritornare ad avere le nostre tradizioni e sono contenta anche che molte contrade hanno riniziato a capire che i nostri giovani devono veramente imparare dagli anziani con delle iniziative veramente valide perché credo che comunque la storia insegni grazie a tutti